Bu 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 bu, visto che mi avete chiesto la live della buonanotte, ciao 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 benvenuti, ciao Marti sei la prima, ciao 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 mi avete chiesto la live della buonanotte, facciamo la live della buonanotte col mio pigiamino, sempre lo stesso ragazzi perché sono via da una settimana quindi vi giuro che mi lavo però il pigiamino è lo stesso, ciao 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 a tutti Allora perché ho scritto live della buonanotte ma anche no? Perché io non vado a letto adesso, io non ho manco cenato, sappiate questo, quindi in realtà però voi ho visto che andavate a letto quindi siete delle brave ragazze che vanno a letto veramente molto presto, io vi stimo molto ma io non sto andando a letto, devo mangiare, ciao a tutti Ciao 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 che bello che bello, nulla come state tutto bene? Oggi giornata nuovamente molto stancante, nuovamente stra incasinato da tutte le parti, tipo questa è la camera, un po' di caos e domani dobbiamo lasciare la casa Ciao 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 ah in realtà prendo la pizza con le melanzane, ho preso la pizza con le melanzane quindi alice alle melanzane, hashtag alice alle melanzane forever, mi faccio la foto, mi faccio la foto e la posto su instagram immediatamente Sì sì sì, domani vedi Michele, uh che bello che bello, bravo bravo, sono contentissima per te No ragazzi non lo so se è sofficio, mi dispiace, lo so che funziona la cosa delle melanzane, yeee, yeee, va bene, bellissima Domani tutta la settimana, oh cacchio madonna sarai stanchissima tipo, dai Vuoi delle melanzane per cena? Me le mangio nella pizza, yo, anzi vi faccio, guardi Pichino Express, ho guardato una puntata sola, o due tipo Oh sono arrivate le pizze, yo, ciao Ecco, Matt il mio fratellone è sempre molto contento Eccoci, c'è delle euforie No ma questa non è mia, questa è mia Ah è la mia? Aspetta vi volevo far troppo vedere Hashtag alice le melanzane, hashtag è la pizza Hashtag alice le melanzane, le melanzane everywhere, yeee Anche mio fratello è nato le melanzane, vedete Ragazzi siamo troppo una famiglia, cioè veramente Uh, aiuto sto uscendo No non ho mai pensato di venire in Svizzera In Svizzera? No mi chiedono se voglio andare in Svizzera Voglio andare in Svizzera? Si, hashtag alice le melanzane sulla pizza In Svizzera? No, le melanzane? No, pure hashtag la pizza alice e la pizza alle melanzane, grandissima Va bene ragazzi io mangio, ho una fame che muoio tipo Ci sentiamo un po' più tardi magari Metto la foto, sì No, no, la pizza è brutta, non merita la foto Non la faccio Alisabetta ti hai visto, grazie Eri tipo dolcissima, ma quando mi hai visto? Quando stavo piangendo come una fontana Dolcissima Figura di... Bip proprio Vabbè Ho pianto, sì Ammetto che ho pianto Dopo tipo lo spettacolo Dopo tutto, dopo il palco Sono dovuta andare nel backstage a rifarmi tutto il trucco Perché ero tutta colato da tutte le parti Bello Ragazzi Vi mando un bacione enormissimo Mangio la pizza e ci vediamo dopo Magari facciamo un'altra live Tra pochino Ciao 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 Ciao